La cerimonia di giuramento e insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un giorno mette in secondo piano lo scontro nel centro-destra. Certo, Giorgia Meloni non omette di rimarcare la distanza tra il suo partito, FD, e Fai e Lega che hanno spaccato la coalizione votando il secondo mandato del Capo dello Stato. Ma nulla è irrecuperabile e Silvio Berlusconi in persona sta lavorando per ricucire lo strappo e tenere unita la coalizione andata in frantumi con la rielezione di Mattarella al Quirinale. A lasciarlo intendere Elicia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e fedelissima del CAV, secondo la quale, in politica la parola fine non è mai definitiva. Silvio Berlusconi dice la Ronzulli non ha ancora sentito Giorgia Meloni, ma penso si sentiranno a breve. Per citare Venditti, ci sono grandi amori che fanno il giro e poi ritornano. Sul tema interviene anche Francesco Paolo Sisto, deputato azzurro e sottosegretario alla giustizia, secondo cui, in vista delle elezioni del 2023, bisogna ricostruire la coalizione di centrodestra, magari con qualche angolo un po' smussato. Forza Italia, che in Italia rappresenta l'anima del PP e, è impegnata, forte dei suoi valori, affinché questo obiettivo si concretizzi, riapriamo la cassetta degli attrezzi e iniziamo a lavorare. Netto giudizio del ministro della PA, Renato Brunetta, un centrodestra attrazione sovranista e un centrodestra che non può esistere. Sogno che Forza Italia torni quella delle origini, con Berlusconi, che sia il baricentro del sistema politico. È ancora lì Ciaronzulli che nei giorni dell'elezione per il Quirinale ha tenuto i contatti con Berlusconi insieme con il vicepresidente del partito Antonio Tajani, con cui si è recata a trovarlo al San Raffale, dove l'ex premier era ricoverato a spiegare la linea del partito, rimarcando nell'appartenenza al centrodestra. Forza Italia vuole sicuramente rivendicare spazi di autonomia ma non guarda sinistra, questo deve essere chiaro. E Berlusconi lo ha ripetuto. Fai si muoverà da sola ma all'interno del campo del centrodestra. Grazie.